Napoli entra nella rete delle città solidali europee, un patto di cooperazione per migliorare la gestione dei rifugiati. Il vicesindaco di Barcellona, Jaume Assens, e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, hanno sottoscritto questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo l'entrata di Napoli nella rete. Ante la incompetenza e la inefficacia dei estati, è più importante che mai che le città che incarna le alternativi civilizzatori, ante il dramma dei rifugiati, siano capaci di interpelare ai estati e siano capaci di accogli più e migliori rifugiati nelle loro città. Partita da un accordo fra i sindaci di Barcellona, Ada Colau, e di Atene, Georgios Caminis, la rete è stata lanciata dal sindaco di Atene nello scorso mese di ottobre, nell'ambito del forum degli affari sociali di EuroCities. Ad oggi vi fanno parte, oltre ad Atene e Barcellona, anche Berlino e Amsterdam. Stiamo lavorando per un ruolo sempre più importante delle comunità europee, del Mediterraneo e delle città, che possono contribuire alla costruzione di un'Europa dei popoli e dei diritti. È un'Europa in cui le differenze siano una ricchezza e che il Mediterraneo torni a essere un mare di pace in cui i popoli possano vivere insieme, quindi mai più mura, filo spinato e respingimento. Quindi è un percorso che stiamo facendo insieme, è un gran lavoro a cui diamo tanta importanza. La rete promuove lo scambio di informazioni, il sostegno reciproco e il trasferimento dei rifugiati fra le città.